Buonasera da Cucina Bievolutiva, oggi prepareremo il parmigiano crudista. Per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre un mixer. Gli ingredienti sono 100 g di noci del Brasile, corrispondenti più o meno a mezza tazza, 100 g di anacardi, sempre corrispondenti a mezza tazza, un quarto di spicchio d'aglio privato del germoglio interno, un quarto di cucchiaino di sale rosa, un cucchiaio di olio di girasole spremuto a freddo. Ed infine un pizzico di pepe nero. Il procedimento è semplice e veloce, mettiamo nel contenitore del mixer le noci del Brasile, gli anacardi, il cucchiaio di olio di girasole, il quarto d'aglio, il quarto di cucchiaino di sale rosa, e il pepe macinato fresco. Frulliamo fino ad ottenere un composto croccante e sminuzzato. Per ottenere questo risultato abbiamo frullato per circa 15 secondi alla massima velocità del frullatore. Siamo pronti per la presentazione. Il parmigiano crudista è pronto. Il profumo vi sorprenderà, ne siamo certi. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta! Grazie a tutti!